ciao claudia si sente spesso parlare del mutuo concept ci spieghi che cos'è ciao giovanni sì certo allora il mutuo concept è un mutuo garantito dallo stato fino allo 80 per cento questo ti consente di raggiungere in alcuni casi quindi anche il 100 per cento del valore dell'immobile fantastico a chi è dedicato questo mutuo è dedicato ai giovani sotto i 36 anni di età ed è stato esteso addirittura per tutto il 2024 anche alle famiglie numerose ho capito ma quali requisiti ci vogliono per richiedere questo mutuo certo allora per gli under 36 con l'indicatore sintetico di costo il famoso isè che non deve superare i 40 mila euro mentre per le famiglie numerose andiamo a scaglioni cosa significa allora significa questo che fino a tre figli al di sotto dei 21 anni l'isè non deve superare i 40 mila con quattro il discorso cambia infatti la soglia non deve superare i 45 mila mentre con film con cinque figli arriviamo a 50 mila grazie claudia sei stata chiarissima come sempre se vi sono piaciuti questi contenuti o vi sono stati utili mettete un like a questo video ciao ci vediamo alle prossime pillole ciao